Musica Benvenuti su Globus Sport News da Maria Grazia Miceli. Potrebbe davvero essere l'anno zero il prossimo per la Roma. Solo qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità, o almeno così pare, del ritiro di Francesco Totti che affiancherà il nuovo direttore sportivo dei Giallorossi, Monchi, in un ruolo dirigenziale ancora tutto da definire. Ma quella di Totti potrebbe non essere l'unica bandiera mai nata della formazione capitolina. In una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Daniele De Rossi ha pronunciato parole importanti che lasciano dubbi circa il proseguo della sua avventura con la squadra della sua città. Non so se rimarrò a Roma il prossimo anno, ci sto pensando molto, non ho ancora deciso cosa fare. Dichiarazioni emblematiche. Nel giro di poche settimane la Roma potrebbe dover fare i conti con gli AD di Totti De Rossi e quello verosimile di Spalletti. Con la consapevolezza che da luglio in poi potrebbe partire una vera e propria nuova era. E ora passiamo alla Lega Pro. Il tecnico del Catania, Giovanni Pulvirenti, intervenuto in conferenza stampa a Torre del Grifo, ha parlato in merito alla difficile sfida play-off di domenica pomeriggio in casa della Juve Stabia. La Juve Stabia è un avversario che ha fatto investimenti importanti a gennaio. hanno anche valori importanti. Nel calcio vince quasi sempre chi ha la meglio a livello individuale. Ci sono momenti in cui bisogna lavorare sotto l'aspetto psicologico, bisogna rimanere sereni e affidarci a volte alle individualità che possono risolvere partite come questa. Personalmente affronto questa gara con grande serenità. Abbiamo lavorato anche in funzione del terreno di gioco che andremo a trovare. Baldanzeddu non gioca da tanto, ma sta lavorando bene. Gli atenei sono consapevoli di poter solo vincere. I campani, d'altro canto, hanno dalla loro la formula di questi sparenzi.